buongiorno nella video recensione di oggi vedremo una scopa a vapore polti vaporetto modello sv 440 double ma passiamo all'unboxing si tratta di un prodotto due in uno perché funge sia da scopa a vapore che da pulitore portatile tratta fino a 15 superfici differenti parquet piastrelle marmo tappeti e moquette piano cottura cappa rubinetteria sanitari fughe vetri e specchi imbottiti come divani poltrone cuscini e materassi porte ante di armadi caloriferi tende e vestiti piante rimuove il 99,9 per cento dei batteri come dichiarato dal produttore è dotata di un dispenser come vediamo per l'erogazione dell'esclusivo deodorante fresco vapor un deodorante che non è incluso ma che è acquistabile separatamente ha un'ottima flessibilità permette di raggiungere infatti gli spazi più difficili e ha delle setole integrate sul retro della spazzola che aggiungono la durazione abrasiva c'è un'ampia dotazione di accessori infatti possiamo vedere ci sono diverse tipologie di spazzole o di lance vapore che permettono di pulire qualsiasi superficie e di arrivare anche nei punti più difficili questi accessori si collegano direttamente alla punta dell'estremità del vaporetto oppure attraverso un adattatore che è sempre incluso nella confezione abbiamo anche una piccola cuffia in spugna e poi due panni per pavimenti già inclusi che comunque sono molto facili da staccare con questo sistema in velcro e molto facili anche da pulire all'interno il filtro integrato nell'apparecchio riduce il passaggio di sali minerali e la formazione di calcare consentendo l'utilizzo di semplice acqua di rubinetto che va caricata nel serbatoio estraibile come vediamo il filtro anticalcare può essere sostituito facilmente per rimuovere il panno dopo l'utilizzo basta appoggiare un piede sull'apposita etichetta proprio per trattenerlo e poi sollevare la spazzola il rumore come potete sentire non eccessivo si utilizza facilmente maneggevole non è troppo ingombrante o anche troppo pesante quindi chiunque può utilizzarlo e basta regolare l'intensità di vapore dall'apposita manopola e poi vediamo basta premere il tasto e dopo un po' si crea subito il vapore che può essere sfruttato sulla superficie da pulire e il tutto poi avviene appunto in maniera molto semplice abbiamo due tasti se utilizziamo la prolunga questo manico in più che si può aggiungere vediamo che all'estremità c'è un altro tasto quindi possiamo utilizzarle sia soltanto il corpo del vaporetto oppure aggiungervi questa prolunga questo altro manico per raggiungere magari parti che sono un po più in alto inoltre una volta inserita la presa di corrente vediamo che il tasto del dell'intensità del vapore si accende con una luce di colore verde e questo significa che è già pronto all'utilizzo quindi passano davvero pochissimi secondi e il vaporetto può essere subito utilizzato tra gli accessori in dotazione abbiamo oltre i due panni per pavimenti l'accessorio per i tappeti e le moquette un accessorio per le fughe una spazzola piccola con tergivetro una cuffia in spugna un concentratore di vapore una lancia vapore un tubo flessibile per il vapore e due spazzolini tondi con setole in nylon un po più grande un po più piccolo quindi davvero un elettrodomestico molto semplice da utilizzare molto pratico e che con gli utensili in dotazione ci permette di pulire in maniera estremamente semplice davvero tantissime tipologie di superfici consigliatissimo in materno in per questa video recensione è tutto per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it